Ben ritrovati gentili telespettatori ancora insieme per questo spazio di approfondimento dell'attualità e come sempre mi faccio aiutare dall'ospite che è in studio con me e che ringrazio vado a presentarvelo, scusate, l'avvocato e amico della nostra televisione Alfredo Caviglione grazie per essere con me anche oggi Sono io che ringrazio voi e ringrazio ovviamente tutti i telespettatori che ci guardano Allora, per quanto riguarda lo spazio di oggi parliamo e partiamo da un caso di cronaca che ha fatto sicuramente molto discutere è il caso di un ragazzo italiano, Matteo Falcinelli che è stato legato, malmenato, incaprettato dalla polizia di Miami dopo l'arresto avvenuto fuori da un locale a febbraio scorso Allora, già di per sé questo caso ha fatto discutere per la brutalità che aveva riguardato il trattamento di questa persona Partiamo proprio da lì, in Italia sarebbe stato possibile tutto ciò? Allora, guardi, sono contento perché adesso faremo qualche trasmissione dove finalmente potremo vedere quanto il nostro codice in realtà sia un codice ottimo, eccellente un codice che trova le sue radici nel corpus iuris civilis di Giustiniano quindi in migliaia di anni fa ed è stato sempre un codice perfettamente adattabile e modificabile fino a quando non ha voluto contaminarsi diciamo così con giurisdizioni e legislazioni diverse proprio come quella del diritto anglosassone con la riforma del codice di procedura che è avvenuta nell'89 Detto questo, sicuramente adesso indipendentemente da questa situazione la brutalità e l'abuso di forza che è stato utilizzato in questa situazione sarà oggetto di non solo censura ma io mi auguro anche di una severa condanna da parte delle istituzioni americane premesso che le istituzioni americane e l'ordinamento giuridico americano è molto diverso da noi sono state fatte delle interviste anche a degli esponenti di altri distretti di polizia dove dicono che del tutto è consuetudine incaprettare, legare, mettere giù per terra tenere schiacciati gli arrestati a seconda, a discrezione di quella che è la valutazione del poliziotto in questo caso dicevano che questo signore era molto agitato ma il problema non è quello il problema è che deve essere sempre diciamo così l'esercizio della forza deve essere sempre proporzionato alla situazione quindi in questo caso si parla di tortura allora in America penso proprio di no assolutamente un modus operandi normale poi sappiamo che se tu vai a 10 miglia all'ora in più ti prendono, ti arrestano, ti portano in galera in Italia è per questo che faccio l'elogio dei giudici come diceva Calamandrei in questo caso l'elogio del nostro diritto perché in Italia sono successi alcuni episodi di questo genere pensiamo alla caserma Diaz pensiamo a Cucchi al ragazzo che è stato morto a seguito delle lesioni ebbene a fronte di questo nel 2017-2016 è stato introdotto un reato che è l'articolo 516 fatemelo vedere perché poi non me lo ricordo mai eccolo qui bravo è brava è l'articolo 513 bis del codice penale che introduce il delitto di tortura tortura è un che può essere commesso da chiunque peraltro non solo dalle forze di polizia se commesso dalle forze di polizia è aggravato ma può essere commesso da chiunque in cosa consiste? consiste nell'esercizio di una violenza sia fisica che psichica non necessaria allora è il presupposto che la violenza non dovrebbe mai essere necessaria ma anche qualora ricorrano delle condizioni così come per la polizia ma anche per il privato di dover comunque difendersi o esercitare una difesa quindi esercitare una forza nei confronti dell'antagonista io non devo mai non devo mai venire meno al senso di rispetto e alla sensibilità della persona umana non è così per tutti gli ordinamenti anche quelli che chiamiamo gli stati di diritto perché la sensibilità arriva da una storia come la nostra che è una storia millenaria ed è quindi la riprovo una volta di più che il nostro impero non è morto mille anni fa ma in tante cose continuiamo ad essere all'avanguardia in tutti i settori quindi la differenza per concludere è la discriminante della tortura cioè quanto io ci aggiungo di non necessario anche se perpetuo un delitto per esempio anche nel uccidere qualcuno se questo atto viene in qualche modo aggravato appunto utilizzando dei metodi che prolungano la sofferenza della persona quello viene ma lei pensi che il nostro legislatore in questo è stato talmente bravo bisogna dirlo accorto sensibile e diciamo così ha previsto nell'evoluzione della situazione dei tempi il reato di tortura sussistente anche senza evidenti segni dividi di percorse di lesioni perché può essere la tortura può consistere anche nello svilimento della propria dignità della propria reputazione del proprio modo di essere e quindi può avere solo una diciamo così una violenza fisica psichica scusi psichica che poi produrrà nel futuro dei traumi o anche delle conseguenze perfetto siamo arrivati alla conclusione così come ci fa capire bene il nostro regista e noi chiudiamo così ringrazio grazie a voi anche per questo piccolo momento di riflessione che però penso sia molto molto utile e interessante e ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa grazie a tutti alla prossima puntata grazie a tutti